Il momento peggiore per governare Per fare le cose che andrebbero fatte Poi pure il terremoto Una situazione tanto complicata Hai ragione È un impegno veramente grandissimo Però hai presente Quando si crede fermamente in qualcosa La stanchezza non esiste Si va avanti sempre e comunque fino all'obiettivo Questo è quello che ho fatto in questi 5 anni Perché mi sono dedicato anima e corpo A questo impegno che probabilmente È la cosa più bella che si può fare Ossia stare al servizio della comunità Credo molto in quello che faccio Credo in questa città Ma soprattutto credo nelle persone Che vivono in questa città Io sono convinto che sia possibile Perché penso che la politica È lo strumento per cambiare Le condizioni di vita delle persone E la vita di una comunità Esiste la politica cattiva Esiste la politica dei cialtroni Di quelli che fanno le promesse Ma esiste pure la politica per bene Fatta da persone oneste Che si vogliono mettere al servizio della città Io penso che sia possibile Praticare una politica giusta E penso che sia possibile farla vincere Perché la città viene al di sopra di tutto Io l'ho detto tante volte in questi 5 anni Il mio partito è la città Perché la città E gli interessi dei cittadini Stanno al di sopra di tutto Ti capisco Ti capisco Tu 5 anni fa sei arrivato Hai cambiato quasi tutto Hai trovato una situazione Veramente complicatissima Però Avevi pure suscitato tantissimo entusiasmo Avevi costruito Una bella aggregazione di persone Cioè è stato quasi un peccato Perché è sembrato da un giorno all'altro Che tu fossi scomparso Ma come mai? Che è successo? Purtroppo non pensavo di trovare quello che ho trovato È stata una cosa tremenda Io quando sono arrivato in comune Il primo giorno Ho trovato creditori che chiedevano di essere pagati I gestori della discarica di Viterbo Che ci dicevano Guardate fra due giorni chiudiamo la discarica Mi sono ritrovato in una lavatrice Mi sono ritrovato in una situazione Talmente difficile Che era difficile Pensare ad altro Cioè io ho lavorato Da la mattina alla sera Senza poter andare a casa a mangiare Senza poter vedere mia moglie Le mie figlie Perché è stato un impegno sin dal primo giorno Che mi ha assorbito completamente Noi quando ci siamo insediati Ci avevamo due scelte davanti O dichiarare il dissesto E quindi sostanzialmente Far fallire la città E avremmo potuto dire Sì è colpa degli altri Quindi ci saremmo puliti la coscienza Ci dispiace L'abbiamo fatto Perché gli altri Hanno mandato in dissesto il comune L'altra scelta invece era quella Che fanno le persone serie Le persone oneste Cioè le persone che guardano al di là di loro stessi Perché amministrare bene Non significa pensare alle prossime elezioni Significa pensare alle prossime generazioni E quindi abbiamo detto Qui bisogna lavorare In maniera profonda Perché dobbiamo salvare il comune dal dissesto Dobbiamo salvare l'azienda Servizi municipali dal fallimento Dobbiamo salvare la città La cosa che francamente Mi fa un po' uscire dai gangheri È che alcuni che attaccano La mia amministrazione Sono quelli Che hanno creato questa situazione di dissesto E dicono che noi avremmo potuto fare altro Non è vero Non è vero Noi avremmo voluto poter fare altro Ma non c'è stato possibile Io avrei preferito fare il sindaco Girando per le strade della città Nei bar A vedere le buche A controllare i lavori Noi siamo stati in una situazione Nella quale È stata messa in gioco La sopravvivenza del comune di Riedi Va bene però basta Non parliamo sempre solo di numeri Di bilanci Abbiamo capito Non ci stava una lira Però insomma Cerchiamo di andare avanti pure Allora Innanzitutto Insomma I conti comunque Devono sempre tornare Perché sono tutti bravi A spendere quando ci stanno i soldi La cosa difficile È amministrare quando le risorse Non ci stanno È come in una famiglia Credo che insomma Il buon padre di famiglia Responsabile Si debba pensare prima Alle cose necessarie E poi se ci sono soldi Va in vacanza Noi in questi cinque anni Non ci siamo potuti permettere Di andare in vacanza Ma abbiamo progettato Delle vacanze bellissime Perché abbiamo trovato Un sacco di risorse Che ci permetteranno Di fare tantissime cose nel futuro E molte già le stiamo facendo Cioè Noi quando ci siamo insediati Il comune Era stato capace Di indebitarsi Pure col bar della piazza Cioè Veramente Beh però Insomma Anche l'ordinaria amministrazione Serve Le buche Le lampadine Le fontanelle Insomma Anche quello È un compito del sindaco Assolutamente Ma ce ne siamo occupati Ce ne siamo occupati Dell'illuminazione pubblica Ci siamo occupati Degli asfalti delle strade Ci siamo occupati Dell'ordinaria amministrazione Ma abbiamo pure pensato Al futuro Delle nostre generazioni Questo è quello Che alcuni non capiscono Un'altra cosa Veramente Che Che mi fa Rabbia È che Io Ho 40 anni Ho avuto il privilegio L'onere e l'onore Di amministrare la città Insieme ad altri Per 5 anni E vengo attaccato Come Se fossi la causa Di tutti i problemi di Rieti Da chi Da chi Ha governato la città Per 25 anni E da chi È la causa Dei problemi Che vive la città oggi Questa è una cosa Intollerabile Guarda Sicuramente è così Sì, però Tante persone La vedono diversamente Cioè molti pensano Che non si sia fatto nulla Evidentemente Vi siete spiegati male Oppure Non avete fatto Una buona comunicazione Perché di cose Ne sono state fatte tante Ma come mai Le persone non lo sanno Allora Innanzitutto L'amministrazione Forse ha fatto troppo E non ci ha avuto il tempo Di spiegarlo ai cittadini Perché noi Abbiamo fatto Il risanamento Del comune Abbiamo rimesso I conti in ordine Abbiamo garantito Un futuro Al comune All'azienda Servizi Municipali Ma anche All'azienda Che dovevano avere Tanti soldi Dal comune di Rieti Ma nello stesso momento Abbiamo anche Lavorato A progetti Importanti Che hanno portato Decine Di milioni di euro In questa città Abbiamo potenziato I servizi alla persona Abbiamo fatto Quello che Difficilmente Si può fare Quando si fanno Politiche di risanamento Perché di solito Quando si fa Il risanamento Si alzano le tasse Si chiudono i servizi Basta Basta con questo telefono Però Non te ne rendi conto Da solo Che è un brutto vizio Insomma Stiamo parlando Tutti estranei È vero Mi devi scusare Però Insomma Diciamo che Di vizi Ce ne sono ben peggiori E poi Ognuno Di noi C'ha I suoi Le sue debolezze I suoi difetti Insomma Pure tu Diciamo che Insomma Sei proprio Così Alla mano O no Oppure pensi Di essere Perfetto Tutti estranei Autore dei sorrisi